Le aziende in Valsesia sono una risorsa importante. Le opportunità per i giovani sono molte, come spiega Riccardo Cavanna, vicepresidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, che parla non solo di crescita professionale, ma anche di sicurezza sul lavoro. Valsesia ha e comunque continuerà ad avere un grande futuro manifatturiero. Ed è un'opportunità soprattutto per le ragazze e ragazze che si stanno affacciando adesso, per esempio, a una scelta importante, che cosa fare dopo la terza media. Ci sono grandi opportunità da sfruttare. Il fatto di scegliere delle scuole tecniche di meccanica, di elettronica, di meccatronica, di chimica, di tessile, di moda, alberghiero, è comunque una scelta vincente. Non è assolutamente una scelta di secondo piano. Anzi, può dare l'apertura a tantissimi giovani rispetto a un mondo che offre e offrirà da qua a cinque anni tantissime opportunità di lavoro. In Valsese abbiamo un problema di carenza di mano d'opera specializzata e questa è una grande opportunità che dovrebbe essere accolta sia dal lato dell'azienda ma soprattutto dal lato dei giovani. Sono luoghi sicuri, innanzitutto, luoghi di grande opportunità di crescita professionale, di crescita intellettuale, culturale, umana. Le nostre aziende danno la possibilità di viaggiare per il mondo, anche di vivere all'estero rappresentando la nostra bandiera nelle nostre filiali o nei mercati in cui stiamo lavorando. Noi come Confindustria stiamo lavorando per cercare di anche organizzare le crowdfunding, cioè le raccolte di fondi, insieme alle scuole indirizzate dei progetti che permettono la creazione di scuole tecniche di alto valore. In questi giorni c'è grande polemica sul tema dell'alternanza scuola-lavoro. Non è mia conoscenza situazione in cui i ragazzi vengono sfruttati. Però io penso che respirare il mondo dell'azienda anche nel periodo della scuola superiore sia una cosa fondamentale. La sicurezza che è un altro tema importante, è un tema su cui noi siamo ossessionati e quindi è giusto che i ragazzi chiedano sicurezza, però bisogna anche valutare qual è oggi il mondo del lavoro. Il mondo del lavoro oggi è un mondo, soprattutto il mondo dell'industria, dove sulla sicurezza si investe tantissimo. Nelle nostre aziende in Varsesia l'attenzione alla sicurezza è spasmodica.